Oakland S1, uno sterilizzatore a raggi UVC per il nostro spazzolino dal costo di 25 euro. Andiamo a vedere cos'è e come funziona in questa recensione veloce. Ok, via con il timer. Una delle domande più frequenti che mi viene fatta dai pazienti è come pulisco le sedure dello spazzolino? E la risposta è quella di risciacquare dopo aver lavato i denti. Ma se questo non dovesse bastare, Oakland vende questo prodotto, uno sterilizzatore a raggi UVC, ovvero radiazione ultravioletta gerbicida, il quale promette di eliminare fino al 99% dei batteri presenti sulle testine dei nostri spazzolini, che ha alcune caratteristiche molto interessanti che mi hanno spento a fare questa recensione. Ma andiamo per punti. 1. La sterilizzazione automatica. Oltre a poterlo attivare manualmente tramite la corticella, Oakland S1 si attiva automaticamente ogni 6 ore per 2 minuti, mantenendo le testine sempre sterilizzate. 2. Può contenere fino a 5 spazzolini, che siano elettrici o manuali non importa, di cui 3 nell'area di sterilizzazione e 2 in quella di storage, così da poterli scambiare velocemente. 3. Si può appendere facilmente su qualsiasi superficie tramite l'adesivo 3M presente sul retro, il che lo rende super resistente anche con tutti gli slot pieni. 4. Una luce LED ci segnala quando Oakland S1 è attivo, mentre questo piccolo LED in basso a destra ci indica lo stato di ricarica del prodotto. 5. Parlando di batteria, questo sterilizzatore è dotato di unità da 1000 mAh e che ci consente di avere un'ottima durata. È presente inoltre la ricarica rapida tramite una comodissima porta tipo C e che ci offre la possibilità di tenerlo sempre attaccato alla presa, in modo da eliminare anche il pensiero della ricarica. Nel caso in cui non avessimo una presa vicino, possiamo facilmente tirarlo via lasciando l'adesivo attaccato a un muro. 6. Ultimo, ma non per importanza, è molto elegante. Questa cordicella, un po' effetto retro unito a un look minimal, mi piace molto e nel bagno, oltre a tenere tutto più ordinato, fa la sua bella figura. Eeeh stop! Ok, per questo video è tutto, io vi lascio il link dell'Oaklyn S1 in descrizione e se vi siete trovati bene fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente se vi va lasciate un like e iscrivetevi per aiutarmi a far crescere il canale. Mi raccomando, lavatevi sempre i denti e un saluto dal vostro igienista. Ciao!